ragazze e ragazzi rieccoci qua su judgment dunque stiamo vivendo i ricordi di egami di quando diciamo faceva l'avvocato e al suo primo caso penale è riuscito ad assolvere il presunto assassinio di un signor anziano in una centro di cura per malattie mentali senili no la demenza interessante devo dire molto interessante adesso vediamo un po come prosegue ma cosa devo fare devo un'矢紙a un' 最近真冬と会ってないんですか えっ 何で急に あの子は男の人に免疫がありません 矢紙さんがリードするべきです なんだそれ 総理君のその文字3号 新谷が悔しがってたぜ あんな美人の友達がいるなら もっとサウリ君に優しくしときゃ良かったってよ 俺らまだ付き合ってるわけじゃ まだと言いましたね つまりその気はあるとだとしても そっとしておいてくれる ma devo forno qua c'è scritto vietato e infatti non devo uscire devo devo fare a parlare con lei そっとしておいてあげます ah va bene concedo a con lui forse mafuyu君は検事なんだろ 弁護士と付き合うとかありなのか だからほっとけって まずは大久保新平の件か 無罪を主張するを方針でいくんだな そのつもりです かつめどはついてんのか なんか突破口はあるんだろ まあ一つだけ 掘り下げたいと思ってる証拠があります おお そりゃなんだ すこさみ devo concentrare per dimostrare innocenza di Okubo eh lo sapevo che c'è una prova su cui dove concentrarmi se voglio che Okubo sia dichiato innocente dunque stanza ospedale finestra unico modo per entrare e uscire dalla stanza attraverso la porta che da sul corridoio lanza di Waco vista dalla porta che da sul corridoio il cuscino è posizionato sul lato sinistro del letto un carro della lavanderia utilizzato nell'ospedale del CSFA per raccogliere le lenzuola sporche abbastanza grande a nascondere una persona molti testimoni hanno visto Kubo un inserente del CSFA spinge il carro della mattina che Waco è scomparso dalla sua stanza liquidi corporal della vittima dopo un'ispezione più approfondita la polizia ha trovato tracce dei furidi corporei della vittima nel furgone di Okubo le analisi del DNA hanno dimostrato che apparteneva a Waco queste ultime prove dimostrano la complicità di Okubo nell'omicidio se complicità magari cioè inconsapevole che come avevo detto immaginavo ma lui essendo diciamo schedato comunque avendo un passato da persona aggressiva ha avuto paura che si denunciava è stato stupido ovviamente ma ha avuto paura che si denunciava di aver trovato il corpo nel suo camion poi davano la colpa a lui e quindi ha preferito occultarlo facendo il gioco del vero assassino io non lo so dal corridoio ti però cioè perché non si vede la testa la finestrina della porta però la vittima è morta per asfissia ma senti io provo a dire questo vediamo tanto mi sa che devo dire per forza la cosa giusta ed è un po' guidato adesso vediamo proviamo a rivelare questo vediamo se non si vede la testa se vede la testa se vede la testa a che si vede la testa a che si vede la testa la testa a che si vede la testa è stato prezziato la testa ci sono state Luca Non è vero, non è vero Oye, tu cosa è? Il momento è il nome di Shintani, Targa Non è venuto Il momento è stato un ucciso di 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 ucciso Non seguiamo Secondo me però è una donna Mi sembra un profilo femminile Ok ma non ne ho preso neanche uno No 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 ho sbagliato Aspettavo il triangolo A posto Eh, è l'infermiera lì No! No! Niente che ci trasfondiamo! Tu è il nome di Terasar Non è vero? Sto riuscire! No! 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 Ehi, questi... vogliono molte. Madonna. Non mi sembrano granché, ma non ho raggiunto neanche una volta. Ah, non ho, aspetta. Ok. Sì, parato, eh. Ok. E lei sarà scappata, no? Ah, è rimasta lì. Sì, è rimasto molto forte. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non è stato un po' di chiudere? C'è stato un po' di chiudere con Yagami, ma anche se è stato un po' di qui. Quindi, a questo punto, il servizio di Sekhara, mi ha detto che... Quindi, non è stato un po' di chiudere. Beh, è stato un po' di chiudere, quindi non è bene. Non è necessario di parlare, non è necessario di parlare. C'è quello che vuol dire, per quanto riguarda l'intenzione, non mi piace. Non mi piace. Questo è quello che è il consiglio del servizio del servizio. C'è un attenzione che vedo l'occasione. C'è un attenzione che vedo l'occasione. Oh. C'è un attenzione che ha detto che è Shono. E' un personaggio di Shono. E' un personaggio di ricerca di centra di città. E' un personaggio di centra. E' un personaggio di Shono? Sì. E' un personaggio realizzato. E' un personaggio realizzato. Ma se mi chiedevi, c'era un po' di rispettare. Cosa cosa? Non c'era un personaggio di Cina. E' un personaggio di sapere. Cosa, c'è stato di capire che non si era che il contratato. Cosa che sono davanti al fatto? E' un po' di rispettare. Cosa che hai un sencillo di s Painter. Ma una notizia, uno dice che sono umana di sapere. E' un personaggio a tutti. E' un personaggio di rispettare. E' un personaggio di centra di sopettare. E' un personaggio di un' arco di rispettare. Non sembra che di rispettare. Grazie a tutti. 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 Il colpevole Shono dice di essere un testimonio. Magari la vittima era già morta. E anche una vittima era già morta. Vabbè? D'accordo, mi fanno... Mi fanno... Mi fanno rifare da capo... Ok, questo... Si... Per questo... Si... ... Non c'è... Non c'è... Non c'è... E... Non c'è... Non c'è... La domanda è tutta la domanda, ma io ho chiesto una cosa per il Consiglio. La cosa è andata in frantumi, il mio momento. E poi, il Consiglio... La domanda non è la domanda del Consiglio? Non è possibile che il Consiglio non si tratta di un tempo. Il Consiglio non è visto che il Consiglio non è vero. Ma non è vero che il Consiglio non è vero. Il Consiglio non è vero che il Consiglio non si tratta di un'esperazione. Quindi io credo che sia un po' di pietà di spiegare da solitudine, ma c'è quello che puoi accionare, e le non ci puoi dire di credere anche sull'istia? Il secondo te mi ha detto sia un istioso. Qui mi ha vinto ogni cosa, quando sono environi per il mondo dei vostri figli che vogliamo se fanno oltre fisicamente. Quindi e poi con il mondo, Ho corso ipo di un collaboratore al stagio di questo centro. Non ci sono ancora una cosa che consente il scientifico edificio di te. E così i problemi di essere. Si potete app transformare il suo rispettivo, non rispondre tutto. Quindi ci sono stati e ci sono stati fai di questo film. C'è quello che dice Shono, non lo so, non lo so, non lo so. Ma... Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Il Consiglio... ...div. ...div. Il Consiglio... grazie a tutti 6年前に暴力を振るってからは 一滴もお酒を飲んでません 勝手な発言は控えてください 枠さんに殴られたことも 認知症の症状の一つと理解してました だから恨みなんてしない それが殺人の理由なんて考えられない 寺沢さん もういい 大久保さんにだっていいところはいっぱいあります 今すぐ大抵を命じます 確かに愛想はいい方じゃないけど 仕事熱心だし 約束は絶対に守るし 大久保さんは万が一自分が有罪になったら 私に迷惑がかかるから だから私に証言はするなって だから弁護士にさえ 私たちが付き合っていること 絶対に言うなって 自分が刑務所に行くかもしれないのに 私の将来を一番に考えてくれる人なんです そういう人なんです そんな大久保さんを異常者と呼ぶケンジが 本当に聞く耳を持っているんですか それからも真理は続いたが 彼女の捨て台詞が 判決の行方を決定付けたように思う 大久保新兵は無罪とされた しかし それからわずか一月後 その大久保の手によって 寺沢恵美は 無残な姿に変わり果てた どうも どうしました いいえ 何でもありませんよ 事務次官 しかし 3年ぶりにお会いします 木戸さん 今もセンター長でいらしたんですね 確かに見覚えがあるな でも 前よりずいぶんやさぐれたか 今は 神室町で探偵をやってます ヤガミです 腹が立つよ あの時は君のせいで ミスミステラサワ君も そうだろ 少女 誰にも止められなかったんです 私がもっとしっかり 証言できていればよかった ショウノさんでしたか それで 今日はここで何を ある殺人事件の調査をしてます ぜひ ご協力いただけませんか 昔のヨシミで ご協力いただけます 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 ああ そういうことか わかった ご苦労さん 確かに シンタニという弁護士から うちに電話があったようだ 彼が電話をした相手は ショウノだ さっきの あのショウノさんですか どうぞ 何かシンタニは 必要なの ショウノ まあ 結局 何のようだったかは わからずじまいながらね 電話があったとき ショウノは席を外していたし そのシンタニさんも 伝言は残さなかった でも 何か心当たりは そう ショウノはシンタニさんと 面式がないと言っている だから電話が来た 理由もわからんと 本当に はぁ 私もショウノも アトデックナインの論文著者だよ これでもずいぶん 名が知られるようになってね 赤の他人が 友人や親戚と名乗って 連絡よこすこともある シンタニさんも そういう手合いじゃなかったのかね シンタニを殺害した犯人は 神室町でモグラと呼ばれてます これまでに 他にも3件 ヤクザの目を えぐって殺してる その事件はご存知ですか ニュースくらいは モグラがこちらのセンターと 関係してそうなことは はぁ 思い当たることは 何もないね そろそろいいだろ もう協力できることはないよ あの お待ちください こまります あなた方 黒岩と言います カムロ署組織犯罪対策か こちらへ ある事件の重要参考人が お邪魔してること お前のことだぞ ヤガミ ヤガミ ん? シンタニ弁護士殺害事件の重要参考人として 話を聞かせてもらう 何だと ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました モグラの新たな犠牲者となった シンタニ弁護士 その生前最後の通話履歴から ヤガミを破滅させた 3年前の事件が蘇る 病院から連れ去られ 山に埋められた入院患者 ヤガミの弁護で 大久保新ぺは そのわずか一月後 包丁でさした恋人 テラサワエミに 火を放った ご視聴ありがとうございました 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 ケイジさん ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました